Dal mondo di Beautiful, ecco a voi le anticipazioni delle trame delle puntate dal 17 al 23 luglio 2023, segnate dalla decisione dirompente di Steffi. Iniziamo con lunedì 17 luglio 2023. Qui vediamo Steffi, intrisa di dubbi, confidarsi con Liam sulla presenza ancora viva del marito nel suo cuore, nonostante il segreto che li avvolge. Il figlio della donna, salvato da una sparatoria, è tenuto nascosto dalla madre stessa. Nel frattempo, emergono sospetti sul comportamento della suocera. Il finale di giornata è tutto un fuoco d'artificio di tensioni quando le due eternamente rivali, Brooke e Steffi, si incontrano alla Villa Forrester. Ci spostiamo a martedì 18 luglio 2023, i riflettori sono puntati su Carter e Paris. Le preoccupazioni di Grace circa l'interesse di Paris per Carter vengono messe a nudo. Ma le sorprese non finiscono qui. Zende, rinunciando a Buckingham, dichiara apertamente di non amare Paris. Da un lato, Quinn visita Carter e rivela l'interesse di Eric per lo sport dall'altro, Parigi, dopo aver origliato la conversazione, sfida la rivale in un confronto serrato. Proseguiamo con mercoledì 19 luglio 2023, un giorno di rivelazioni e di dolore. Steffi, cercando di lenire le angosce di Thomas, ammette il suo fallimento nel non aver confessato a Ridge e Brooke il complotto di Sheila. A questo si aggiunge il pianto disperato di Steffi, incapace di dare l'ultimo saluto al marito. Nel mentre, Carter decide di fare un passo importante con Quinn, pensando di allontanarla dai sentimenti che nutre per la Fuller. E infine, giovedì 20 luglio 2023, un giorno segnato dalla sofferenza di Steffi. Preoccupata per le sue continue crisi emotive, Taylor suggerisce a Steffi di lasciare la città con i suoi figli. Nel frattempo, al centro benessere, luogo d'amore di Eric e Donna, si susseguono teneri gesti d'affetto. Carter, infine, fa una rivelazione sciocca alla Fuller, vuole sposare Paris, scatenando la sorpresa generale. Venerdì, 21 luglio 2023. Mentre è in compagnia di sua moglie nello chalet, Liam è interrotto da una chiamata urgente di Steffi. Nel contempo, Thomas fa visita a Logan, rivelando che la sorella, afflitta dalla perdita di Finn, sta per abbandonare Los Angeles. Giunto alla dimora di Steffi, Liam si trova di fronte ai bagagli pronti della donna, capisce subito ciò che sta accadendo. Con le parole di Steffi che risuonano nel cuore, Liam la stringe tra le braccia, promettendo un'eterna presenza al suo fianco. Dicko, invece, si confronta con Brooke, chiedendo scusa per la notte di Capodanno e mettendo in chiaro che la vera colpevole è Shayla. Dopo un saluto affrettato a causa di un appuntamento importante a Villa Forrester, sul palcoscenico entra Taylor, che offre a Ridge un pasto da asporto. Mentre stanno cenando, arriva una Brooke irrequieta, che chiede risolutamente a Taylor di lasciare in pace l'ex. Sabato, 22 luglio 2023. Taylor risponde a Brooke che il suo commento è inappropriato. Rileva, infatti, che avendo entrambe una figlia con Steffi, necessitano di passare del tempo insieme per elaborare i recenti avvenimenti. Mentre le due donne iniziano una discussione accesa, Forrester calma la situazione, facendo capire a Brooke che desidera rimanere un po' con Taylor. Carter, invece, rivela a Queen il suo continuo pensiero per lei. Lei gli consiglia di far finta di non essere interessato per non farlo notare a Eric. Domenica, 23 luglio 2023. Donna avverte una certa distanza in Eric, capendo che sta pensando a sua moglie. Mentre si perdono nei ricordi del loro passato d'amore, Eric prende la decisione di lasciare Queen, dato che il sentimento non c'è più. Contemporaneamente, Vico rende visita a Brooke, raccontandole della sua visita a Villa Forrester e del ritrovamento di suo marito con Taylor. Brooke confessa che è tornata a casa dopo che Forrester l'ha sorpresa chiedendole di vedersi in un altro momento. Anticipazioni Beautiful, trama puntate americane. Una notizia sensazionale si diffonde, Liam sarà colpito da un tale shock da rischiare la vita? Storie dettagliate circolano sul bacio che Thomas e Hope condivideranno a Roma, vicino al Colosseo. I due saranno sorpresi da Liam, giunto nella città eterna per fare una sorpresa alla moglie dorata. Intanto, voci preoccupanti circolano sui social media e su vari blog dedicati alla sopopera americana riguardo al destino della figlia di Brooklyn. Anticipazioni Beautiful, i dettagli del bacio tra Hope e Thomas. Le notizie americane di Beautiful si concentrano sul bacio romano tra Hope e Thomas. La giovane Logan tradirà il marito, tutto questo sotto gli occhi increduli di Liam, giunto in Italia per sostenerla nel grandioso evento legato alla sua collezione, la Hope for the Future. Ma cosa succederà esattamente nell'episodio in questione? Avremo l'opportunità di vederlo in Piazza Navona, dove Carter presenterà Hope come l'ideatrice della linea Hope for the Future. Dopo un'emozionante sfilata, la giovane salirà sul podio e ringrazierà tutti i presenti, in particolare Thomas, che la raggiungerà orgoglioso sul palco. Dopo l'evento, Thomas si unirà a Hope, che apparirà sorridente e felice, come non si vedeva da tempo. Thomas inviterà Hope a godersi il momento e a non pensare al telefono, decidendo poi di portarla a vedere il Colosseo. Intanto, dietro le quinte, Steffi sarà impegnata a discutere con il suo staff quando Spencer, il giovane, fa la sua comparsa, visibilmente sopraffatto. La Forrester inizierà a elogiare la sorellastra, affermando di essere convinta che sia la moglie perfetta per lui. Lo incoraggerà a mettersi in contatto con lei il prima possibile dato che è in giro per la città. Nel frattempo, su una terrazza con vista panoramica, Hope e Thomas ammireranno l'incredibile vista del Colosseo. Liam, disperato e desideroso di riunirsi con la moglie, comincerà a guardarsi intorno freneticamente. A un tratto, arriverà presso una scalinata dove troverà Hope e Thomas intenti a godersi il panorama. Forrester inizierà a guardare teneramente negli occhi la sua collega, affermando di trovare tutto meraviglioso, compresa lei. Preciserà di sentirsi come se insieme avessero scritto un pezzo di storia. Poi inizieranno a sorridersi. Improvvisamente, Liam li noterà, percependo una certa emozione tra di loro. Preferirà restare in silenzio. Di colpo, Hope trarrà a se Thomas e lo sorprenderà con un bacio appassionato. Liam non potrà credere ai suoi occhi. Al momento, gli spoiler riguardo alla continuazione di questa storia sono top secret. Alcuni ipotizzano che Liam, ferito, si avvicinerà alla sua ex moglie Steffi, e che quest'ultima tradirà Finn. Tuttavia, questa supposizione sembra molto improbabile. Questa volta, sebbene i due siano stati protagonisti di vari momenti passionali e di tira e molla in passato, la nostra Steffi appare attualmente felice e soddisfatta accanto al dottor Finnegan. Quindi, cosa succederà veramente? In rete, circolano notizie davvero catastrofiche, non riguardanti il personaggio di Liam Spencer, ma riguardanti Hope. Anticipazioni puntate americane di Beautiful, qual sarà il destino di Hope dopo aver baciato Thomas? In una recente intervista, Brad Bell, produttore di Beautiful, ha dichiarato che negli episodi girati a Roma ci sarebbero stati dei colpi di scena che avrebbero cambiato per sempre la vita di Liam Spencer. Per la prima volta, Hope si lascerà andare con un uomo diverso da suo marito, con cui per anni ha conteso Steffi Forrester. In rete circolano diversi scenari possibili sulle conseguenze di questo bacio appassionato. Tra questi, c'è uno davvero funesto, collegato alla morte di un personaggio, ossia Hope Logan. A quanto pare, il dramma non si verificherà a Roma ma in un futuro prossimo a Los Angeles, la città in cui è ambientata la nostra amata serie. Tuttavia, gli episodi registrati finora negli USA mostrano la nostra Hope in perfetta forma, radiosa più che mai, anche grazie ai suoi successi professionali. La sfilata in Piazza Navona decreterà il successo della sua linea di collezione, che, come spesso rivelato dagli spoiler, ha rischiato addirittura la chiusura a causa dei flop registrati negli ultimi mesi per mancanza di originalità. Brooke sarà orgogliosa di sua figlia e, per la prima volta, la vedremo anche elogiare Thomas Forrester, voluto fortemente da Hope nonostante i timori di Liam come lead designer. Nonostante ciò, Brooke sarà sempre convinta che Thomas non sia completamente guarito dalle sue ossessioni. Questo non significa, però, che non sia un stilista di talento e di successo. Anche Steffi sarà entusiasta dei risultati ottenuti dalla sorellastra. Non a caso, quando incrocerà Spencer a Roma, terrà a sottolineare quanto sia fortunato ad avere una donna come Logan al suo fianco. Quindi, cosa succederà? I rumors in attesa di conferme ufficiali sul destino della figlia di Brooklyn sembrano essere a dir poco tragici. Forse la ragazza non si riprenderà dallo shock di aver condiviso un momento di passione con Thomas e sarà vittima di un incidente.